Benvenuti da Naro Sensei Vi è mai capitato di dover riavviare il PC per risolvere dei problemi, dei bug, dei conflitti, degli aggiornamenti eccetera? Vi siete mai chiesti come mai facendo il buon e vecchio arresta il sistema e poi riaccendendo il PC tutto ciò non avviene? Beh, oggi parleremo di avvio rapido, di cosa è e di come si fa a impostarlo correttamente Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per avere tutte le notifiche Aggiornatevi sempre in tempo reale grazie al mio Instagram nel quale tra l'altro ho messo un sacco di programmi sfiziosi che non vengono più messi nel canale e potete addirittura abbonarvi e poter usufruire così anche di una VPN gratis illimitata Detto questo, subito dopo la sigla Ribenvenuti da Naro Sensei Ebbene, che cos'è questo magnifico e misterioso avvio rapido? Anni fa, quando c'erano ancora dei vecchi sistemi operativi Windows, nel momento in cui io facevo arresta il sistema lo avviavo il giorno dopo e il computer si resettava e aveva le nuove impostazioni, partiva da zero diciamo Più lento, però funzionava Chiaro che tutte quante queste cose, ad esempio funzionare, non sono così tanto importanti e perciò si punta di più alla velocità Noi vogliamo avere il computer veloce, aperto subito, scattante, rapido Però questo ci va a creare dei problemi Che genera i problemi? Se, ad esempio, il nostro antivirus che sia Casper Sky, che sia Avast, che sia VG, che sia quello che volete si aggiorna alla nuova versione voi, anche se spegnete e accendete il computer lui vi dirà sempre è necessario riavviare il PC per apportare le nuove modifiche Ma perché? Ora vi spiego Grazie alle nuove versioni di Windows cosa succede? Quando voi spegnete il computer Windows fa una sorta di foto a com'è il sistema operativo in quel momento Fatto questo con il prossimo avvio lui replica esattamente il computer in quello stesso stato Perciò, avete un antivirus da aggiornare? Ce l'avrete ancora da aggiornare Avete un bug o un problema? Avrà ancora un bug o un problema L'unico sistema è proprio riavviare per resettare tutto Però possiamo fare in modo che ad ogni avvio questo venga riavviato Molto molto comodo per avere un computer sempre pulito tra parentesi e perfettamente funzionante Chiaro che allungheremo i tempi di avvio di qualche secondo non stiamo parlando di minuti stiamo parlando di secondi Soprattutto se avete un SSD come disco in cui c'è il sistema operativo forse non ve ne accorgerete nemmeno della differenza Ad ogni modo noi dobbiamo andare nel buon vecchio caro pannello di controllo una volta aperto si va su sistema e sicurezza Aperto sistema e sicurezza dobbiamo cercare opzioni risparmio energia quello con la spina e la batteria per farci capire Apriamo questo e qua troviamo a fianco specifica comportamento pulsanti di alimentazione Ora questa è la schermata corretta quando viene premuto il tasto di alimentazione arresta il sistema quando viene premuto il tasto di sospensione sospendi e fin qua benissimo qua sotto sull'impostazione di arresto troverete attiva avvio rapido scelta consigliata ed è già spuntato non si può togliere come vedete non è possibile levarlo perché di base questa è la funzione predefinita impostata da dalla Microsoft bene ci basta semplicemente andare su modifica le impostazioni attualmente non disponibili questo diventa con le spunte spuntabili eccolo là abbiamo tolto attiva avvio rapido salva cambiamenti fine da questo momento in poi ad ogni spegnimento del pc corrisponderà un reset del sistema operativo perciò l'antivirus tornerà perfettamente senza dover rifare i riavvi il sistema operativo stesso avrà degli aggiornamenti importanti su Windows Update andremo ad avere degli aggiornamenti cumulativi eccetera che verranno fatti senza dover riavviare avremo tutti quanti i bug i conflitti gli errori di rete tutto pulito e sistemato chiaro che ha discapito di qualche secondo di avvio ma secondo me è meglio aspettare qualche secondo in più e avere un sistema operativo pulito anche perché se una volta a settimana due volte a settimana devo riavviare il pc e perdere tempo a spegnerlo accenderlo per poter applicare tutte queste cose che automaticamente così si applicano secondo me alla fin fine perdita di tempo è molto molto relativa anzi potrebbe quasi convenire di più a livello di tempo poi se il problema non vi piace se vi fa schifo tra parentesi come funziona andiamo sempre su sistema opzioni risparmio energia specifica comportamento modifica le impostazioni riattiviamo salva cambiamenti fine ok quindi torna alla spunta se invece chi ne ha capito qualcosa lo mantiene disattivato credetemi che il computer vi ringrazierà ma veramente tanto perché ogni software ogni applicazione ogni servizio che parte dipende da questo avvio ed è una chicca veramente veramente molto molto bella da sapere spero di avervi spiegato in maniera esauriente quello che dovevo spiegare se avete dubbi domande o altro resto sempre a disposizione sotto nei commenti buttatemi un like che tanto è gratis il pollice in su lo potete proprio regalare iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e niente ci vediamo alla prossima puntata bye bye ciao